Radio Radicale, siamo con il senatore Balboni di Fratelli d'Italia, vicepresidente della Commissione Giustizia, per parlare della data dei referendum sulla giustizia il 12 giugno. Allora, si voterà in un giorno soltanto, dopo la fine della scuola. Allora, voi avete parzialmente abbracciato la battaglia referendaria. Le volevo chiedere, insomma, come ha trovato lo stratagemma di questa data, che ha provocato tante contestazioni e soprattutto se si poteva fare meglio. Sì, si poteva fare meglio perché il 12 giugno significa andare a ballottaggio a fine giugno, quindi sotto il sole, con le famiglie già in vacanza, soprattutto le famiglie che hanno bambini piccoli, con la stagione turistica già in corso e noi sappiamo quanto hanno sofferto gli operatori turistici negli ultimi due anni di pandemia, adesso anche la crisi legata alle vicende della guerra. Quindi, certamente, sarebbe stato opportuno fissare una data... Alla fine di maggio, quando ci sono ancora le scuole. Sì, insomma, almeno un paio di settimane prima, un paio di settimane prima. Perché si va così avanti? Si va così avanti perché il governo ha voluto abbinare il voto amministrativo con il voto referendario e siccome sappiamo che è in corso l'esame del disegno di legge Cartabia che dovrebbe, in teoria, disinnescare, se non tutti, almeno quasi tutti, il referendum, evidentemente si è voluto dare il tempo per concludere questo iter, sempre che poi la maggioranza così composita e così contraddittoria, che ormai litiga su tutto, riesca a mettersi d'accordo su questioni non da poco, come, ad esempio, la riforma del sistema elettorale GSM che da solo, come sappiamo, sta impegnando in un confronto molto osservato posizioni fra loro molto diverse dentro i partiti della maggioranza. Quindi, se la riforma dell'ordinamento giudiziario arriva in aula alla Camera il 19 aprile, in teoria, ce la potrebbero fare a disinnescare almeno tre dei quattro referendum? Sì, guardi, il problema è se si mettono d'accordo tra di loro, perché i tempi ormai ci hanno abituato a bruciare le tappe, cioè il Governo ci ha ormai abituato ad andare in aula senza relatore, come è successo proprio anche oggi sul decreto per gli aiuti all'Ucraina, ci ha abituato a voti di fiducia addirittura in prima lettura, quindi è chiaro che se la maggioranza vuole forzare i tempi, lo può fare. Chiaramente non siamo più una Repubblica parlamentare, siamo una Repubblica basata sui decreti legge, ormai il Parlamento è diventato una scatola vuota perché il Governo decide tutto quello che vuole, tanto poi in aula ha un'amplissima maggioranza e per cui impone le soluzioni di compromesso che vengono adottate fuori dal Parlamento. Il problema qual è? Che sono sempre più soluzioni di compromesso, questo è il vero punto. Senta, se dovessimo prendere come metro di durata dell'esame parlamentare del gasto allo stativo, lei pensa che riusciranno a terminare il lavoro sull'ordinamento giudiziario prima del 12 giugno? No, in questo caso sicuramente no, perché sul gasto allo stativo sono ormai mesi che stanno discutendo e non trovano l'accordo. Oggi l'hanno votata la Camera. Ah, l'hanno votata oggi? Sì, 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 un due ore fa. Vabbè, quindi non ero informato, grazie. No, vabbè, insomma, è notizia di un'ora fa. Ecco, però voglio dire, sì, se i tempi fossero quelli, certamente no. Il fatto che si voti soltanto un giorno, per esempio sul referendum per il taglio dei parlamentari, si è votato nell'arco di un giorno e mezzo e con le scuole aperte da una settimana. Beh, sì, il fatto che si voti un giorno solo non aiuta certamente al raggiungimento del quorum. D'altronde l'unico argomento che ha davvero una valenza politica importante è quello sulla separazione delle carriere. Delle funzioni. Delle funzioni, vabbè, delle carriere, insomma, perché l'obiettivo sarebbe poi quello. Cioè, non credo che la gente si possa appassionare a un sistema di elezioni anziché di un altro per quanto riguarda il CSM. Poi, tra l'altro, sul CSM, lei sa, non è neanche sul sistema di elezioni. Semplicemente il referendum toglie l'obbligo di presentare delle firme per le candidature. Come si possa immaginare che questo tagli le unghie alle correnti e tolga potere alle correnti? Io sinceramente non lo capisco. Quindi, sulla giustizia, il referendum che veramente rimane al centro dell'attenzione... E quello sulla separazione delle funzioni. E quello sulla delle funzioni o delle carriere, come viene più comunemente, mediaticamente presentato. Ora che, su un tema così, più del 50% dei italiani si sentono, come dire, stimolati ad andare a votare, la trovo difficile, anche se è un tema molto importante, ma purtroppo, come spesso succede, è un tema molto specialistico, per cui molta gente, non avendo competenze specifiche, e, tra l'altro, considerando che oggi giustamente l'attenzione è su tutti altri temi, perché quando si sono varati i referendum, certamente non si prevede di trovarci in guerra. Quindi è chiaro che col tema delle bollette, con la notizia di poche ore fa, che forse addirittura nei prossimi giorni la Russia potrebbe decidere di chiudere i rubinetti del gas. Cioè, ovviamente, sono situazioni talmente drammatiche che difficilmente oggi l'opinione pubblica si potrà interessare su un tema, purtroppo dico, su un tema così specialistico. Quindi tutto questo considerando, considerando anche che il referendum, forse più importante di tutti, parlo di quelli della giustizia, cioè quello sulla responsabilità diretta, civile, dei magistrati, la consulta ha cassato il quesito, non lo ha ammesso, e quindi, insomma, trovo molto difficile che purtroppo si riesca in questa fase ad affrontare un tema che pure è molto importante. Chiarissimo. Io la ringrazio. Ringrazio il senatore Balboni di Fratelli d'Italia. Grazie.